Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il collega tedesco Frank Walter Steinmeier hanno deposto domenica una corona di fiori sull'Appennino Emiliano per l'ottantesimo anniversario dell'Eccidio che si compì a Marzabotto in due comuni adiacenti. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 44 le SS uccisero almeno 770 persone, tra cui 271 bambini, donne e anziani, tra Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno. Le note del silenzio hanno accompagnato la cerimonia presso la chiesa di San Martino sul Monte Sole. Per le truppe naziste aiutate da fascisti italiani fu una rappresaglia per il sostegno di quelle comunità ai partigiani. Il Presidente tedesco ha incontrato i parenti delle vittime e chiesto perdono a nome della Germania. Steinmeier ha detto di provare dolore e vergogna, ricordando anche gli altri ecidi nazisti in Italia, da Sant'Anna di Stazema alle Fosse Ardiatine. Well, the autumn sun's shining down at the King Baudouan Stadium here in Belgium for the final day of the visit of Pope Francis. There's a crowd here of around 39,000 people, as he says mass. In his homily, Pope Francis talked about the importance for mercy for those who have made mistakes, for compassion for those suffering, including asylum seekers and refugees. And once again, he referred to the marketplace in relation to the impact it has on social injustice and social inequality. But for all this adoring crowd here today, it's undoubted that the visit of Pope Francis to Belgium has been dominated by the legacy of child sexual abuse, both here and across the world. He was called upon by Prime Minister de Croix, by the King of Belgium and by survivors themselves to compensate those who have suffered and to do more. Shona Murray, Euronews, King Baudouan Stadium. Importante sequestro per reati societari, del valore di oltre 15 milioni di euro, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. L'ordinanza di misura cautelare reale è stata emessa nei confronti di tre persone, indagate in concorso tra di loro, per il reato di bancarotta fraudolenta riguardante il fallimento di cinque società in provincia di Messina, formalmente intestate ad un prestanome ma di fatto riconducibili ad un medesimo gruppo familiare. Si sta facendo luce sulle circostanze e le cause che hanno portato, in un breve arco temporale, al tracollo finanziario di cinque aziende, operanti nel settore della produzione e commercio di arredi e mobili o per cucina. Da successivi approfondimenti è emerso che i vertici aziendali avevano architettato un piano volto a sottrarre l'intero patrimonio finanziario e immobiliare delle imprese, causandone il fallimento. Attraverso svariati stratagemmi gli indagati hanno complessivamente distratto dalle cinque società fallite, somme per un importo complessivo di circa 36 milioni di euro. Inoltre i responsabili hanno omesso di consegnare parte delle scritture contabili obbligatorie a conclusione delle complesse attività d'indagine. Le fiamme gialle sono riuscite ad identificare un complesso immobiliare, avente un valore commerciale stimato in oltre 15 milioni di euro che dopo essere stato sottratto al patrimonio di una fallita attraverso una compravendita simulata per un valore di 4,5 milioni di euro, così da evitare le azioni di recupero dei vari creditori, è stato ceduto, in modo irregolare, ad una nuca o di fatto riconducibile al già noto gruppo familiare. Di qui la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile ubicato nel comune di Milazzo esteso su un'area complessiva di oltre 10,000 metri quadrati utilizzato, attualmente quale shopping center. Al riguardo per evitare ripercussioni negative sul tessuto economico dell'intero comprensorio milazzese si è previsto che le esigenze cautelari siano soddisfatte senza lo spossessamento del bene e limitazioni all'utilizzo dello stesso. All'istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Mister Bianco, l'anno scolastico 2024-25 è iniziato alla grande, il 26 settembre, con la giornata europea delle lingue, proclamata dal Consiglio d'Europa nel 2001, con lo scopo di incoraggiare l'apprendimento delle lingue, fondamentale per la comprensione interculturale e per promuovere, all'interno della comunità europea, la pluralità linguistica. Pertanto, innumerevoli sono gli eventi pianificati in tutti i Paesi membri, durante questa ricorrenza. Nonostante la scuola sia cominciata da pochi giorni, infatti, la preside dottoressa Sabina Maccarrone e la professoressa Lucia Caruso referente Trinity barra Erasmus hanno strutturato l'iniziativa e con l'aiuto di tutto il personale docente. Si è riusciti a coinvolgere l'intero istituto che si è messo subito a lavoro per organizzare, in breve tempo, due giorni di festa che hanno coinvolto gli alunni di tutti gli ordini di scuola e le loro famiglie. Il 25 settembre è toccato ai plessi Margherita e di Via Portella, mentre il 26 è stato il turno dei plessi di Via Puglia, Polifunzionale e San Carlo. Durante la manifestazione sono state consegnante le certificazioni DELF, Trinity e Trinity Stores agli alunni che hanno sostenuto i relativi esami nel precedente anno scolastico. Per l'occasione i bambini della primaria hanno suonato l'inno alla gioia, inoltre, hanno cantato l'inno di Mameli, la Marsigliese e l'inno inglese. Nonostante il Regno Unito, il 31 gennaio del 2020, abbia scelto di uscire dall'Unione Europea, non possiamo dimenticare che l'inglese rimane una delle lingue più diffuse, non solo in Europa, ma nel resto del mondo e che occorre familiarizzare con questo idioma, fin dalla più tenera età, tant'è che anche i bambini della scuola dell'infanzia si sono esibiti con canti in lingua inglese. Gli alunni delle seconde medie, invece, hanno recitato degli scioglilingua in italiano, italiano, francese e inglese. È intervenuto alla manifestazione anche il sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro che ha ribadito l'importanza di tale evento. Dopo le varie rappresentazioni, le giornate si sono concluse con un momento di convivialità che prevedeva la condivisione della merenda con cibi tipici italiani, francesi e inglesi. I genitori hanno collaborato con entusiasmo cimentandosi nelle preparazioni delle diverse specialità. È stato un tripudio di colori e sapori, una giornata di musica, di gioia e di partecipazione che ha dato l'opportunità di apprezzare la ricchezza linguistica e culturale del nostro continente, patrimonio che va protetto e valorizzato. Ponte parla al centro, come l'hai vista la partita? Poi ti diciamo come l'abbiamo vista nella tribuna. Sì, l'importante era ritornare alla vittoria. Dopo due risultati non brillantissimi, i ragazzi l'hanno voluta fortemente questa vittoria. Dopo un primo tempo che secondo me abbiamo fatto anche discretamente bene. Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri. Nel tiro da fuori ci siamo arrivati diverse volte da riempire la porta nei cross che arrivavano da Lunetta e da Guglielmotti o da Castellini. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, aggressivi, determinati e in questa determinazione, in questa vemezza, nella palla rubata. Sul pezzo sulla palla, qualche gol lo hai anche sfiorato, ma poi sei arrivato benissimo in quel secondo gol, in quel primo gol anzi, perché il Catania nel primo tempo ha fatto un grande volume di gioco. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo pressato bene, eravamo sempre nel loro metà campo, dovevamo essere un po' più lucidi negli ultimi 15-20 metri, però l'atteggiamento è sempre stato giusto. Poi il secondo tempo si sono stati bravi negli spolatoi, abbiamo detto subito, continuiamo così, positivi, fiducia, il gol arriva, per fortuna è arrivato, poi è stata un'altra partita, più sofferenza e lì noi siamo molto bravi a starci. Si è spenta venerdì a Londra, all'età di 89 anni, l'attrice britannica Maggie Smith, una delle più importanti interpreti femminili della sua epoca. Ha vinto un Oscar come miglior attrice nel 1970 per il film La strana voglia di Jean e uno come miglior attrice non protagonista per California Sweet. Il suo ricordo è impresso nella memoria di adulti e bambini per la figura della professoressa Meg Granit nella saga di Harry Potter e per quella della contessa madre di Grantham nella serie tv Downton Abbey. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 1 ottobre di Globus Television. Martedì, regime di alta pressione sulla regione. Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 29 gradi, valori notturni vicini ai 10 gradi nelle zone interne. 20 da nord mari. Martirreno poco mosso, marionio mosso, stretto di Sicilia mosso.